Molto nei pronostici, ti dico già che le azzecherò tutte, però mi piace fare i pronostici perché io poi vado ad intuito, vado alle squadre più forti, se tu mi dici le squadre che pensi possano arrivare io penso da un lato semifinaliste, Brasile che è una delle favorite con la mia Argentina che il cuore mio batte argentino per via di Messi, penso Argentina-Brasile da un lato e dall'altra penso una delle due favorite insieme al Brasile che è la Francia con la Spagna che gioca il calcio più bello del mondo, perché male che vada la Spagna fa il calcio più bello del mondo, io penso da un lato Francia-Spagna, dall'altra Inghilterra-Brasile-Argentina però ovviamente arriverà sia la Corea che il Marocco, è probabile, con i pronostici sono bravi, però dico queste quattro qua dai. Siamo dal Marocco.